eccoci qua da sandra sandrana jones eccoci qua il cappello noi siamo qua in acqua a prendere il fresco si sta da dio qua abbiamo l'intiwit packraft eccolo qua in tutto il suo splendore l'ho gonfetto ancora un po perché faccia delle vaniglie stupende dove si può anche attaccare ci sono degli attacchi qua per attaccare il bagaglio una bici e direi che come packraft economico la prima impressione non è super stabile facciamo packraft da avventure normali medie non da robe super super soniche in mari glaciali però non male assolutamente non male anche perché il lago di abbastanza movimentato come lago qua guardate che spettacolo questo splendore che c'è qua e tra un po visto che ho imparato a fare i video adesso con questo custodia qua vi farò vedere anche sopra il packraft sopra il packraft guardate che bello però bella bella robetta bella robetta una delle ultime cose che probabilmente mi potrò permettere anche perché ho finito la scorta ragazzi ora ora dipendo solo dello stipendo del lavoro ci vediamo al prossimo video ciao ciao